Buonasera signori e signore, benvenuti a questa edizione Flash del nostro TG, per darvi in anteprima le ultime notizie. Partiamo con le impressioni del Premier Conte, al termine del concitatissimo, così dicono i nostri rumors, consiglio dei ministri. Sì, era in discussione la destinazione da dare ai 209 miliardi di euro in arrivo dall'Europa con il piano Recovery Fund. Possiamo sentire com'è andata la riunione dalla viva voce del nostro Premier, che vedo già in collegamento, in diretta da Palazzo Chigi, al microfono della nostra inviata. A te la linea. Buonasera Presidente, ci hanno detto che la riunione è stata molto movimentata, però alla fine siete riusciti a stendere un documento. Ci puoi illustrare quali sono i punti principali del vostro programma? Buonasera a tutti. I punti ce ne sono stati parecchi. Per quanto riguarda Gigino Di Maio si è ritrovato con sei punti di sutura sullo zigomo, invece la Bella Nova si è trovata con dieci punti sullo stinco e io per fortuna me la sono cavata soltanto con qualche libido. però invece abbiamo effettivamente steso qualcuno ed è stato il Ministro Speranza. Lo abbiamo fatto ricoverare all'università, speriamo che possa imparare qualcosa. Ma questi soldi come verranno spesi allora? Beh allora intanto abbiamo molti punti di intervento per il futuro del nostro paese. Intanto la capitale verrà spostata di nuovo a Firenze, di modo che sarà vicino a Bruxelles, meno i soldi arriveranno prima. Poi investimenti nel pubblico, ecco faremo una bellissima sede del governo a Rignano sull'Arno che il confronto alla reggia di Versailles sembrerà una rimessa per gli attrezzi. Mi sembra un piano molto rivoluzionario, ecco. Potrebbe darci qualche altra anticipazione? Certo, non poteva mancare nel nostro piano lo sport. Abbiamo deciso che compreremo Messi e Cristiano Ronaldo per la Fiorentina e faremo anche un nuovo stadio, non più a forma di D come è il Franchi, ma lo faremo a forma di R come... Va bene, ok. Ma mi dica una cosa, per il green non fate niente? Non ci pensate al futuro della nostra generazione? Certo, il green è importantissimo, il verde, appunto, il tavolo verde. Ecco, noi manderemo degli emissari con valigette, con tanti soldi dentro, al casino di Las Vegas e con la speranza che possono tornare poi con tanti verdoni in tasca. Che succede? Oggi io la vedo un po' diverso, la vedo sofferente, ecco. No, diciamo che ho un problemino, diciamo ho un gatto attaccato ai gioielli di famiglia. Da Palazzo Chigi è tutto, a voi la linea studio. Bene, dopo queste importanti informazioni che abbiamo ascoltato direttamente dal nostro Presidente, direi di passare alla notizia successiva. Sì, siamo in collegamento con un importantissimo virologo che ci darà un suo parere sulla pandemia in base alla luce dei contagi che si stanno evolvendo. A te la linea. Ma questo quanto vino c'è? Una mortitudine. E ecco. Quante, quante bottiglie. Quante, quante botti. Questo comunque è un bellissimo paradiso. Anche se sono morto direi che va bene. Eh? Eh? Cosa c'è? Ma va bene? Veramente una mortitudine di vino. Sì, pronto? Sì, regia? Ma vi siete sbagliati? Quello non era un virologo, era un vinologo. Ma sì, ho capito, ma che... Sì. Scusate, c'è qualche problema tecnico. Ci hanno comunicato dalla regia che ritenteremo il collegamento più tardi. Proseguiamo con la prossima notizia e parliamo di sport. Sì, sport. Infatti adesso abbiamo in collegamento niente di meno che il nostro mister Allegri. Voci sempre più insistenti lo danno per certo in Premier League per la prossima stagione. Ma sentiamo dalla sua voce quali sono le notizie vere. Pronto? Ci siete? Mister, buonasera. Finalmente ci ritroviamo. Mi dica un po', come sta? Come è iniziato il nuovo anno? Ma... Che c'è? L'anno nuovo è come uguale a prima. Cioè, prima mi ero un più coglione nell'anno vecchio, ero un po' io ancora. Cioè, è una calata. Un po' di entusiasmo. Vabbè, a parte questo, siamo tutti curiosi di sapere cosa ci dice lei a proposito di tutte quelle voci che la danno ad allenare in Premier League nella prossima stagione. Che ci dice a riguardo? What? I don't understand. Non mi ha... Cioè, io la prossima stagione e voglio allenare con le servettine. C'hanno un progetto ganzo molto bellino che... Mi guarda, mi guarda. Sai se c'hanno? La TAD. Sai dove sei la TAD? No, non lo so. La TAD è la tattica a distanza. Praticamente io posso stare a... Anzurtà e a affamare tutti i giocatori, a mandarle in culo direttamente dal gommone, mentre sono per scaglioti. Cioè, è nostro, è veramente grande, è molto bello. È il futuro. Accidenti! Ma allora come mai è vestito così? Ah, me l'ho anche accorto. Ma questo è un vestitino... Cioè, è carnevale. Che febbraio sicché ho deciso di vestirmi un po' canzo. Allora, innanzitutto siamo ancora a gennaio. Però vabbè, dettagli. Ma da che è mascherato? Non capisco che vestito sia. È un personaggio nuovo. Si chiama Brexin. Dei scherzo, via, giù, ci vuoi in Inghilterra. Sì, tu ti vai in Emidane, ci vuoi, ci vuoi, ci vuoi. Ma a proposito dell'Inghilterra, come farà con la lingua? Mi hanno detto, girano delle voci che stia già prendendo lezioni, fa dei corsi speciali per la lingua inglese, è vero? Sì, c'è, è vero, però, cioè, se è arrivato Renzi a parlare in inglese e farsi i RP, insomma, però, se ce l'ha fatta lui a fare le interviste, ce la posso fare anche io a fare i miei RP da giolatori. Che poi, voglio dire, non è che serve la laurea per parlare con i giolatori in Inghilterra, cioè non è che devi sapere l'inglese e l'ameriano, cioè, i giolatori sono un po' come i cavalli, cioè, te ti intendi di IPA? Ma perché ve lo chiedi tutte le volte? Sempre! Eh, perché, scusa, è una cosa fondamentale, tutte le volte spero, tu l'abbiamo studiato un po' io, tu l'hai imparato, ce l'ho fatto... Veramente gliel'ho chiesto io se ha studiato l'inglese, quindi... Ma chi è l'allenatore qui? Insomma, mi rispondo la domanda, diceva che i giocatori sono un po' come i cavalli. I giocatori sono un po' come i cavalli, appena fanno l'allenamento, il riscaldamento, li vedi, no, la sgambatura, se vanno o non vanno, però, soprattutto, e devi guardare nell'occhio, e guardi, e dici, appena uno, se lo vedi, che ha gli occhi strinti, quello vuol dire che devi cagliare, e sicché lo puoi faggiare, perché c'ha problemi e lo stia in panchina, mentre se vedi quello, l'occhio per gli vispi, quello è buono, lo devi faggiare, è semplice, ci vuole l'inglese, l'americano, tutte le lingue lì. Certo, è semplice, sono... Ci vuole il ghigno. Eh, sono scema io che gliel'ho chiesto, giusto? Cioè, è logica. Ma, senta, mi dica un po', per quanto riguarda le città, avrebbe qualche preferenza? Dove preferirebbe andare? Ma, so che... Non è che... L'osso fondamentale è che ci sia il ponchi. Ecco. Io ho già fissato con ragazzi, tanto devo fare complimenti ai miei ragazzi, Kevin, Jonathan e Michael, che siamo organizzati con loro, si è preso un furgone, e quando si arriva all'Inghilterra si va a fare un ponchi tour, si va a vedere un po' cosa si trova, quali pub c'hanno il ponchi e quali l'ho, perché io senza ponchi non mi sposto. Quindi, qualsiasi città va bene, basta c'è il ponchi. E oltre al ponchi, invece, della cucina inglese, come farà? Lì non ci sono piatti italiani, eh? Si dovrà abituare. Anche lì mi sono organizzato. Cioè, io ho subito preso la mano alla situazione, e... Cioè. Non è che in Griglia c'hanno tutta la tradizione culinaria, ci siamo noi, no? Anziché c'hanno solo i fish e i chips, no? Io sì che... Che fa? Sostituisci e fish con il nostro fish e caciucco. Che farò? Chips e caciucco. Caciucco e chips. Cioè, è una cosa abbastanza chiara. Ora, ha rotto io una cosa. Quante domande devi fare, eh? Io ora vado via. Andiamo da via. Vado a settimana con il giorno, perché devo fare una revisione al full. Vada, vada al carnevale, vai. Arrivederci. Arrivederci dopo le nostre perle del nostro mister. Come sempre, vi salutiamo. Bene, signori, si conclude qui questa edizione flash del telegiornale. Buona serata a tutti e buon proseguimento con i programmi della rete. Grazie. 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 Grazie.